Quindi l'ha detto per tirarsene fuori. Beh, dopo 17 ore chiunque l'avrebbe fatto. Prima dell'affermazione in questione, lei non ha forse detto agli agenti in uno scatto d'ira se volete che vi dica una bugia, vi dico una bugia, li ho uccisi io? Sì. E immediatamente dopo lei non ha negato di sapere qualcosa o di essere coinvolto negli omicidi? Sì. Ok, c'è qualcos'altro? Jesse Mischelli ha negato di averlo fatto, poi lo ha ammesso e poi l'ha negato di nuovo ed è in galera. Il testimone ha fatto la stessa cosa. Le chiediamo pertanto di consentirci di presentarla alla giuria. È nostro diritto invocare il ragionevole dubbio, è per questo che interroghiamo il testimone. Invocare o creare? Tutti e due.